Ciao a tutti amici di Avriai, un salutone dal green Ancora Ultimate Team World Cup, un altro squad builder, questa volta Germania-Portogallo che si affronteranno stasera Andiamo a vedere questa rosa qui, un 4-3-3 con i due cdc che mi piace tanto perché è offensivo ma ben coperto davanti alla difesa, allora importa Neuer ho messo qua sotto i giocatori perché se devo cercare nel club ci mettiamo 3 ore a fare lo squad builder difensori centrali abbiamo visto Boateng e Bruno Alves se preferite utilizzare un giocatore più veloce potete usare Pepe al posto di Bruno Alves i due terzini sono entrambi i portoghesi e sono Antunes e Silvio Schmelzer a sinistra della Germania non mi è piaciuto tantissimo Lam dall'altra parte, ah sì, un overall alto però è sempre troppo troppo avanti e lascia veramente i buchi questi giocatori invece, questi due qui che vi dico adesso, Schweinsteiger e Bender sono da tenere qui e non sostituire mai perché sono veramente due torri davanti alla difesa Schweinsteiger sappiamo tutti che è un mostro con 87 di overall ma Bender soprattutto non è velocissimo però ci mette sempre il piede al momento giusto centrocampista centrale, io ho messo João Moutinho perché ha un work rate alto alto 4 stelle sul piede debole, ha un 78 di velocità che per un centrocampista è veramente tanto e poi sottoporta con i suoi inserimenti che fa veramente, non tradisce mai le due ali sono Schurle a sinistra e Nani a destra quindi abbiamo due ali veloci, tecniche, con un buonissimo cross con un buon tiro soprattutto con Schurle se volete andare a tirare il giro da fuori per cui veramente due ali di qualità davanti Marione Gomez, unica punta anche lui, gran tiro, soprattutto gran colpo di testa, grandissima elevazione ovviamente come ha la sinistra se avete la fortuna di avere Ronaldo in squadra potete benissimo usare anche lui ma veramente questo attacco qui ha due ali velocissime una punta veramente mostruosa nei colpi di testa per cui una squadra come ho detto all'inizio del video è offensiva perché ha due ali veramente veloci veramente votate l'attacco coperta comunque in difesa perché ha i due CDC che sono veramente un muro in mezzo un centrocampista centrale in mezzo al campo con un buonissimo passaggio perché ha un 83 di passaggio un buon dribbling soprattutto veramente questo work rate alto alto che lo fa muovere avanti e indietro per tutto il campo per cui una squadra bilanciata una squadra non difficilissima da trovare nei pacchetti perché a parte Schweinsteiger e Neuer che hanno 86-87 di overhaul gli altri giocatori sono comunque tutti intorno all'80 a parte i due terzini che sono addirittura un 76 ma che fanno benissimo il loro lavoro per cui una squadra possibilissima da fare se avete visto prima sotto avevo anche Ozil Ozil si può usare come centrocampista centrale a me non è piaciuto tantissimo preferisco João Moutinho però quella è se trovate anche lui perché anche lui è abbastanza difficile da trovare con il suo 87 se ce l'avete potete provare a utilizzarlo bene ragazzi ovviamente se avete la possibilità provate questa squadra fatemi sapere cosa ne pensate con un bel commento sotto al video mettete un mi piace e come sempre noi ci vediamo al prossimo video e stai barba stai qualità ciao belli